ciao amici di napolità analisi tattica internavoli ragazzi allo partiamo dicendo che tatticamente questa partita è stata perfetta abbiamo visto di nuovo dopo la juve il 451 di antonio conte politano che non deve arrivare fino a dietro no quindi non deve andare ad allinearsi con i difensori però abbiamo visto un napoli completamente diverso giocare uomo su uomo le marcature predefinite tutto parte dalla pressione perché i tre giocatori offensivi del napoli andavano a prendere i tre giocatori difensivi dell'inter perché a sinistra c'era caraschelia su pavard a destra politano su bastoni e lukaku che aveva come riferimento a cerbi che però spesso andava in area di rigore ma tra poco lo andiamo a vedere a centrocampo i duelli mc tominey con barella anghissà con mkhitaryan e gilmour che seguiva come un'ombra cianoglu è andato un po' a cercarlo per tutto il campo fino a quando però l'inter ha iniziato a fare tantissimo calcio relazionale perché raga il risultato è buonissimo il napoli resta prima in classifica ma di fronte ha trovato una squadra che è fortissima infatti soprattutto dopo il gol inizia il super calcio relazionale di simone zaghi che portava praticamente i giocatori ovunque all'improvviso troviamo pavard a sinistra di marco che veniva ad associarsi anche lui sul lato destro comunque un movimento veramente importante dei giocatori dell'inter ma il napoli è stato bravissimo ad assorbire bene in fase difensiva bene in fase di assorbimento ci sono due errorini sul gol ma soprattutto sull'inserimento che vi dicevo prima di acervi che va a chiudere un'azione dove meret però si fa trovare pronto la cosa importante che però dobbiamo dire che il napoli crea bene anche nel primo tempo il primo tempo bene anche nella fase offensiva però c'è ancora qualcosa da migliorare sulla zona di rifinitura e sulla finalizzazione perché il napoli ha trovato anche un'altra soluzione per questa partita per quanto riguarda la costruzione dal basso ma questo lo andiamo a vedere tra pochissimo iniziamo vedendo questo 4 5 1 precisissimo qui ve lo fermo proprio nel momento giusto gira palla l'inter e c'è questo 4 5 1 precisissimo dei giocatori del napoli con lukaku che ovviamente è l'ultimo terminale che balla un po no nella zona di costruzione iniziamo a vedere qualcosa sulla costruzione prima di tutto vedete come gilmour scende di fianco a meret e si creava questa situazione una salida la volpiana però partendo dal basso cioè iniziando dal portiere perché conte fa questo perché prima di tutto come vedete crea questo 5 contro 4 e soprattutto elude quella che era una trappola quindi un pressing sul play perché molte volte il napoli durante queste prime giornate costruiva 4 più 2 spesso la palla la riceveva il play o lo botta o gilmour per evitare questa cosa come vedete gilmour si abbassa alla linea di 5 e lì rimangono i quattro giocatori dell'inter che non hanno più riferimento per la pressione qui in questo caso la palla va verso sinistra e olivera va avanti però in questo caso perdiamo palla ma profittevole è quest'altra stessa cosa 4 gilmour sempre di fianco a meret e vi ho messo in alto di lorenzo no perché è il giocatore che è importantissimo perché in quel caso il terzino fissatore che si va ad aprire e va a costruire ancora questa linea di 5 qui ancora una volta i quattro giocatori dell'inter che vanno a vuoto perché non hanno i riferimenti e da qui esce una bella azione raga perché la palla passa proprio tra i piedi di gilmour che apre in avanti quindi va di fianco con il suo compagno in avanti subito e qui c'è un'ottima azione di lukaku che va su anghissà anghissà apre da quest'altro lato su quara schede avete visto come partendo con questa costruzione arriva il primo tiro quello lì che quara schede purtroppo da tra le braccia di sommer però come avete visto cambiamenti anche in base a quello ovviamente che la struttura di pressione dell'inter quindi bene bene andiamo a vedere invece il gol del napoli perché se per qualcuno quel gol è casuale non è mai casuale vi faccio vedere proprio dalle immagini nulla è fatto a caso prima di tutto super blocco perché l'inter difende a uomo lascia proprio 23 giocatori in zona però quella zona che è assolutamente attaccabile come vedete vi ho messo tutti i calciatori del napoli che attraggono tutto il blocco dell'inter dall'altro lato della porta quindi lato opposto a dove si batte il calcio d'angolo ed è importantissimo anche il movimento di anghissà vi ho messo la freccia bianca guardate perché anghissà tra pochissimo tenete d'occhio proprio zamba anghissà e ho messo l'altra freccia invece a di lorenzo che va ad attaccare proprio lo spazio in mezzo ai tre giocatori messi a zona ma guardiamo che succede guardate bene anghissà è che anghissà va si porta anche un altro giocatore qui poi è stato bravissimo raccomani e mc tomine a trasformare quest'azione in gol però come avete visto che ma fatto bene quindi organizzazione sulla valle inattiva qui di solito l'allenatore fa l'applauso allo staff ma non so se questa se le palle inattive le cura il match analyst maiuri oppure lo fa il fratello di conte oppure a volte lo fanno anche i secondi stellini potrebbe essere perché per esempio spalletti lo faceva baldini no vi ricordate lavorava sulle palle inattive comunque ottimo il gol arriva da un'azione codificata e io sono contentissimo lo sapete poi chiudiamo le cose positive che sono state altre con quest'azione top del napoli perché vi voglio far vedere anche una cosa importantissima qui la palla arriva raccomani benissimo la palla in verticale guardate come taglia tutto il campo mc tomine di prima lukaku che apre su quara schelia e qui dobbiamo per forza fermare perché che cosa succede qui siamo al 32esimo e raga dopo il goal guardate quanti giocatori stanno andando ad attaccare la porta di sommer e questa è un'azione manovrata è perché il raccomani va in verticale buona la sponda di lukaku si apre questa azione e qui come vedete ci sono quara schelia che al pallone poi c'è lukaku anghissa politano e mc tomini contro i quattro giocatori dell'inter raga questo è ottimo sviluppo però guardate che succede nella zona di rifinitura perché guaraschelia che mantiene palla va al centro purtroppo qui anghissa sbaglia viene anche recuperato benissimo da di marco è che perché poi anche loro tornano ferocemente indietro comunque come avete visto anche questa è un'azione positiva perché nel primo tempo il napoli poteva assolutamente fare un altro gol poteva quasi chiudere la partita anche se poi il secondo tempo era durissimo perché l'inter è una squadra forte andiamo a vedere purtroppo le cose negative iniziamo a vedere prima di tutto vi voglio far vedere questa azione acerbi perché questa azione di acerbi ti fa capire che in questo momento il napoli non è proprio prontissimo a questo passaggio al 5 4 1 ma perché perché purtroppo nel quarto di là c'è un giocatore che è offensivo non è prontissimo ad assorbire quelle che sono determinate giocate perché non ha neanche la postura difensiva e tutto si vede in questa azione perché guardate qui politano dovrebbe seguire acerbi perché in questo caso acerbi si sta sostituendo come costruttore al terzo di difesa perché politano vi ricordate a il terzo di difesa era bastoni quello che doveva andare a seguire ma in questo caso visto che acerbi quello che si sta inserendo deve seguirlo politano no perché ovviamente ci sta la marcatura uomo su uomo però è anche uomo nella zona cioè se tu hai un riferimento lo devi seguire fino alla fine guardate cosa succede appena va avanti l'immagine come vedete politano a un certo punto si ferma si ferma guardate l'ho messo nel cerchietto rosso perché lui qui doveva proseguire doveva almeno andare a leggere quella linea di passaggio che in questo caso anche sta invece deve andare ad accorciare su barella perché lì si fa proprio così uno segue un altro scappa in avanti è proprio regola tattica uno segue e uno scappo uno segue e uno scappo questa cosa la fanno ripetere a lupe negli allenamenti anche per capire quali sono i compiti e qui c'è l'errore perché entrambi scappano e qui resta sto spazio enorme che arriva acerbi e qui c'è una grande parata di meret poi arriviamo al gol perché sul gol si sono dette tantissime cose io in prima battuta ho dato responsabilità a gilmour però secondo me qui al di là di meret che poi ne andiamo a parlare però qui bisogna fare un'analisi approfondita prima di tutto l'inter qui è bravissima a portare la palla da un lato all'altro perché questa azione io ve la faccio vedere appena è arrivata a sinistra ma questa azione parte da destra perché era un momento in cui l'inter stava facendo appunto calcio relazionale che cosa succede però succede che l'inter per la prima volta riesce a creare quel quadrato no il quadrato quello che riusciva a fare anche l'atalanta e lo ha fatto spesso contro di noi per la prima volta al 42esimo ci riesce guardate che cosa succede ancora qui un po pigro politano che come riferimento non sta neanche male però come vedete qui ci sono due giocatori del napoli di fronte a una scelta e ricordatevi sempre quando i giocatori vengono messi di fronte a una scelta vuol dire che tatticamente hai fatto la mossa giusta perché di lorenzo qui non ha l'aiuto di politano che ovviamente quando scende l'inter a manovrare anche se 5 4 1 deve scendere a dare una mano al suo compagno in questo caso un po lento un po alto non va forte neanche su riferimento e si creano questi due giocatori con due scelte di lorenzo che non sa in questo momento se andare su di marco o stringere alle spalle su mkhitaryan e la stessa cosa succede a gilmour perché qui gilmour non sa se andare sul suo riferimento base che c'ha la noblu quindi deve andare a provare a schermare il tiro c'era noblu o purtroppo a mkhitaryan a fianco lui è un giocatore che ovviamente al di là di quelli che sono gli incarichi del mister ha ovviamente le sensazioni ma non solo lui ce l'hanno tutti i calciatori ma in questo caso il punto della situazione è anghissà perché io anche sa l'ho messo sotto al cono di luce in questo caso però ribadisco raga credetemi questa azione viene da sinistra verso destra però in questo caso anghissà che ha come riferimento mkhitaryan non si sa perché sta in quel posto in mezzo all'area di rigore perché poi lì ci sono tutti i riferimenti probabilmente è anche una scelta quando si sa che bisogna affrontare una squadra che fa molto movimento anche senza palla di solito in determinate occasioni si lasciano anche riferimenti a uomo e probabilmente anghissà li aveva percepito una pericolosità al centro dell'area di rigore ed è andato però questa cosa ha portato purtroppo i suoi compagni a delle scelte quindi di base se vogliamo trovare il responsabile possiamo farlo a scalare cioè forse il primo è anghissà che non ha il suo riferimento il secondo è politano che non va a dare una mano a di lorenzo il terzo potrebbe essere gilmour che però in questo caso se va forte su cialanoglu rischia di lasciare alle spalle mkhitaryan quindi raga io vedendola rivedendola rivedendola perché sono alla terza volta e vedo sta partita io qui non riesco a dare tante responsabilità forse ripeto questa è anghissà politano è un po gilmour ma gilmour lì se va forte verso cialanoglu cialanoglu il giocatore che gli dà proprio sul corridoio la palla mkhitaryan con semplicità quindi è questa la mia lettura avete visto i punti interrogativi sui due calciatori e ripeto quando succede questa cosa chapeau alla squadra avversaria perché ti mette di fronte a una scelta e poi sei due contro uno e devi cercare quale è la mossa che ti può fare meno male proseguiamo con l'azione come vedete poi gilmour ha un po di sensazione ci prova cerca di andare ma cialanoglu tira questo missile ora andiamo un secondo a parlare di me io ve la faccio vedere da qui vediamo la prima immagine questa cialanoglu vedete la palla come va abbastanza centrale diciamo che è abbastanza centrale ripetiamo il tiro da dietro abbastanza centrale forte la palla prima va dritta e poi ovviamente si apre un po io continuo a vedere qui una poca esplosività una palla che lui più o meno vede non è un erroruccio però secondo me poteva fare qualcosa in più anche da quest'altro lato possiamo vedere lui pette un po la mano debole non lo so raga mi trovo in difficoltà rivedendo anche questa dinamica l'ho vista tante volte onestamente errore solo perché per me lui ha potenzialità per essere prima di tutto più esplosivo e ripeto questo tiro non è tanto angolato però poi durante la partita alex fa delle parate importanti qualche parata sull'autaro che poi mi sembra una l'ha fatta anche in fuorigioco un'altra importante appunto sua cervi che vi ho fatto vedere prima quindi ragazzi sta ci sta io non 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 ci andrei pesante su su sto ragazzo che io lo so che è divisivo tutti lo attaccano però a mio parere è un errore che ci può stare ma neanche così tanto errore perché di fronte c'è un giocatore che tira questi missili e poi l'altra cosa che posso dire forse meglio la prossima volta studiare un po di più quelle che sono le caratteristiche di un giocatore come c'è la noclu perché spesso fa questi tiri spesso tira con questo mezzo esterno e allora magari forse la prossima volta che lo incontrerà alex sarà un po più pro chiudiamo questo video raga con una giocata del gigante perché perché il napoli ha un muro e alex buongiorno qui sbaglia gilmour purtroppo con troppa semplicità poi cerca di mettersi avanti a turam e guardate con che semplicità buongiorno prende questa pala poi prende anche fallo qui che ovviamente non nessuno fischia non succede niente comunque questa è la giocata che deve per forza chiudere questo video perché io ho messo nelle mie pagelle racmani come migliore in campo però buongiorno fa quest'azione contro turam che è un giocatore devastante soprattutto nell'uno contro un ragazzi siccome ero addentrato all'analisi non vi ho chiesto di iscrivervi al canale ma lo faccio mo iscrivetevi al canale siamo quasi a 20.000 pochissimi iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche lasciate un like e un commento a questo video che per noi è fondamentale e ricordatevi sempre www.napolita.it il nostro sito fatemi ringraziare jack pardi che entra nella redazione di napolità farà un suo pezzo sul napoli basket sono contentissimo grazie onorato di avere un giornalista come jack pardi con noi è uscito già il primo articolo andatelo a vedere ragazzi questa è l'analisi fatemi sapere ovviamente nei commenti se qualcosa non vi è chiaro se volete aggiungere qualcosa se mi sono dimenticato qualcosa come sapete rispondo a tutti i commenti ma in particolare quelli sotto all'analisi un bacio e un abbraccio da stasera ragazzi sempre forza napoli ricordatevi che stasera alle 22 siamo su spazio napoli ci andiamo a fare una chiacchierata e vi faccio vedere anche qualche dato un bacio ciao